Ciao a tutti, oggi andremo a vedere cos'è accaduto nella live di Davide dal titolo Siete una massa di poracci, vergognatevi. Titolo scritto in caratteri alfanumerici, probabilmente per dare un po' di tragicità, diciamo, a questo titolo. In ogni caso comincia ovviamente con i vari saluti, dopodiché si comincia a parlare di tatuaggi e lui dice che se ne dovrebbe fare altri perché ha ancora un po' di pelle libera, quindi insomma perché non occuparla con ulteriori tatu, e comunque dice che per ora non li farà perché sta dando, diciamo, importanza, sta dando la precedenza a cose più importanti, ma che comunque nel futuro ha intenzione di colmare le lacune della sua pelle. Ad un certo punto entra un utente con un nick, con il nick bibliofila, lui legge accuratamente, si avvicina allo schermo per leggere e legge bibliofiglia. Comunque entra anche un altro utente dal nome Leo Leo e dice che vuole essere perdonato da Chiara e da Luciana. Pare che questa persona abbia fatto una live contro Luciana e Davide dice che le live contro le fanno solo i conigli e i codardi, quindi ricordiamoci questa cosa. Poi questa persona, cioè quell'eoleo, dice a Luciana che gli aveva detto di non ricordarla, che probabilmente ha un inizio di demenza senile. E Davide a questo punto si scatena. Dice che la demenza senile ce l'avrà la madre, dice che siccome è un bigliacco codardo e sicuramente sarà un maschio di stare attento e di vergognarsi di aver fatto la live contro sua suocera, e poi visto che questa persona gli aveva detto di aver disattivato i social, lui dice che se vuole la live contro Luciana, lui la recupera, e se trova qualcosa che non va, lui di live contro gliene fa 200, che come minaccia lascia anche il tempo che trova. Comunque dice anche che porterà l'indomani la suocera a fare la denuncia contro questa persona. Luciana dice che non lo vuole assolutamente denunciare, che vuole sapere, insomma, chi si permette di dire che lei lo voleva sculacciare, perché pare che questa persona abbia scritto che durante una live Luciana gli aveva detto appunto che lo voleva sculacciare. Dico pare perché purtroppo la live l'ho vista indifferita e non ho potuto leggere esattamente cosa questa persona ha scritto. Comunque poi Davide dice a questa persona che purtroppo la demenza senile è una malattia che esiste, che l'ha avuta anche suo nonno, e che se non vuole che si incavoli con lui deve chiedere scusa a Luciana, perché lei appunto questa malattia non ce l'ha, ma ce l'ha lui. Poi gli dà anche del pezzente, dicono che vanno tutti là a fare i leoni da tastiera, gli dice vienimelo a dire in faccia che ha la demenza senile, che in questo caso stai mancando di rispetto a tutte quelle persone che ce l'hanno, e poi gli dà del mentecatto. Luciana a questo punto dice che lei non capisce tutto questo astio, questo livore insomma, che ha questa persona contro di lei, solo perché insomma gli ha detto che gli avrebbe dato due sculacciate, che poi bisognerebbe anche vedere, dice lei, il contesto nel quale ho detto questa cosa. L'ho detto magari scherzando e non capisce appunto perché se l'è presa così tanto. Davide dice che verificherà la live e poi saranno cavoli suoi, non dice esattamente cavoli, insomma sapete cosa. L'utente, quest'utente scrive che vuole chiedere scusa e Davide dice che deve chiedere scusa alla suocera, che però ribatte che le scuse non le interessano. Dopodiché Davide dice a questa persona che è demente e deve dirlo a sua madre e Luciana dice di non offendere gli altri ma di prendersela soltanto con la persona che ha detto queste cose. A un certo punto qualcuno lo informa che ci sono tre video contro Luciana che ha fatto questa persona, nel suo canale appunto ci sono questi tre video e Davide afferma che gli manderanno lo strike e gli dice che è un uomo di merda. Luciana ancora una volta dice che non capisce tutta questa rabbia contro di lei e poi ipotizza che dietro questo nick ci sia il croccantino. Croccantino, chi è? Croccantino dovrebbe essere Christian, cioè l'ex di Senz'Anima. Questo croccantino che è sempre un po' tirato in mezzo da diversi youtuber. Comunque, qualcuno in chat scrive che non sa neanche questa persona cos'è la demenza senile e Luciana dice che evidentemente lo sa, però non sa che lei non ce l'ha insomma e Davide afferma che ci sono tante persone che si fanno dire cosa vuol dire una cosa. Evidentemente pensa a lui stesso. Comunque, Luciana dice che la figlia ha insinuato che lei potesse avere la demenza senile, ma le insinuazioni della figlia sono tutte cose campate per aria e che vorrebbe che la figlia alla sua età diventasse demente come lei. E questo, ecco, l'ha sottolineato Luciana e vorrei sottolinearlo anch'io. Ci sono persone che dicono che Luciana ha la demenza senile come questo Leo Leo o che suppongono che abbia questa malattia perché magari molte volte la vedono in live che ride, che canta, che scrive anche, che dice anche cose particolari insomma e quindi si rifanno alla live che ha fatto Chiara dove diceva che la madre probabilmente si comporta in quella maniera perché ha la demenza senile e questo lo disse Chiara e magari rifacendosi a quella live, a quello che ha detto proprio la figlia, dicono, suppongono anche loro che Luciana soffra di questa malattia. Ora, capisco che non è bello sentirsi dire determinate cose, ma se queste cose vengono dette da tua figlia che ti conosce, se queste cose vengono ipotizzate da chi vive con te 24 ore su 24, evidentemente può esserci anche qualcosa di vero. Quindi non prendiamocela con gli eter che poi riprendono ciò che è stato detto da una tua consanguinea, da tua figlia in questo caso, prendiamocela con tua figlia che per poter giustificare determinati comportamenti della madre appunto ha messo in giro questa voce. Quindi non è che Chiara, cioè una persona non può dire la qualunque su YouTube in un video che comunque vedono moltissime persone e poi non aspettarsi che altre persone riprendano ciò che lei ha detto facendo proprie le convinzioni o le supposizioni o le ipotesi o chiamiamole un po' come ci pare che tu hai divulgato, cioè che tua figlia ha divulgato in questo caso. Io alle volte ho l'impressione che quando si fanno dei video, quando gli YouTuber fanno dei video, quando certi YouTuber fanno dei video o delle live, credono di stare da soli o di stare in famiglia, cioè di stare semplicemente con le persone che sono in chat, che possono essere amiche, moderatori o quant'altro. Questi video poi comunque possono essere viste da altre persone, sono viste da altre persone e non tutte sono amiche. Quindi è ovvio che poi quando si dice qualcosa di particolare è normale che poi ciascuno lo elabori secondo la propria sensibilità ed è normale anche che alcuni possano usarlo anche contro chi dice appunto queste cose. Poi sta a noi vedere cosa vogliamo dire della nostra vita, cosa vogliamo mettere in pubblica piazza o cosa riteniamo opportuno tenere per noi. In ogni caso la live continua, Luciano a un certo punto comincia a piangere e Davide dice complimenti pezzi di merda a tutti quanti che avete fatto piangere mia suocera. Qua si vede la vostra natura, siete dei bastardi vigliacchi, eter di merda. Poi dice che sono dei conigli, che se li becca uno a uno gli spacca le gambe, ripete e ribadisce pezzi di merda, questo oggetto insomma, questa cosa, questo elemento è molto devo dire usato in quella casa. Comunque dice anche che sono invidiosi, frustrati del cazzo, poi a un certo punto chiede scusa perché afferma che quando lui si arrabbia gli parte istintivo appunto di prendere le persone a parolacce. Comunque dice che lui queste cose non le pensa e che comunque non andrebbe mai sotto casa dalla gente a fare e disfare, dice lui. Poi si rivolge a due suoi moderatori che probabilmente sono stati bloccati, hanno chiesto di essere sbloccati e questo non è avvenuto. Sembra che abbiano scritto dei messaggi sul cellulare di Davide e a lui questi messaggi non sono piaciuti. Dice che lui ha fatto un post per sbloccare dove la gente appunto doveva andare a scrivere io sono bloccato per favore sbloccami, che queste due persone non hanno scritto nulla e poi rivolgendosi soprattutto al marito dice che doveva usare la materia grigia e farsi un altro account e che lui comunque si è rotto i coglioni. Poi dice che se la moglie quella volta, dice lui, è uscito con quella frase e non è perché pensa che la madre sia davvero malata altrimenti non l'avrebbe mai detto ai 420. E cosa fa? Tira dentro senza anima chiamandola cerchiettata e dicendo che aveva detto che se sua moglie non faceva quella live non faceva visual, la live evidentemente dove Chiara aveva detto che probabilmente la madre soffriva di demenza senile. Dice che loro sono come la famiglia del mulino bianco, finta, penserete voi? No, sono come la famiglia del mulino bianco perché se litigano poi fanno pace subito. Poi afferma che le persone che se la prendono con Luciana e perché la invidiano perché lei è attiva nonostante l'età e alle persone questo brucia. Che lei è molto attiva sui social e che se avesse la demenza senile comunque non userebbe, non sarebbe capace di usarli. E poi fa il gesto dell'ombrello e dice prendetevela nel... capite dove insomma. Eter di merda come al solito. Ritira un'altra volta in mezzo senza anima perché evidentemente senza anima è un po' come il prezzemolo, sta bene ovunque. E lei dice preparati a fare una live dove dico che sono volgare che poi ce n'è anche per te. Insomma poi Luciana ricomincia a piangere perché si è commossa per un messaggio che le hanno mandato per la solidarietà e la stima insomma che le danno in chat. E insomma poi succede che la live va avanti che cominciano a parlare e lui si alza va a fumare e Luciana insomma parla di cose che non sono inerenti al discorso fatto precedentemente. Dice che insomma vuole cantare per sfogarsi. Comunque questa live dura tre ore. Io non l'ho vista tutta anche perché a un certo punto cominciano a giocare. Però insomma i tratti che mi hanno più interessata ovviamente sono questi qui. Cosa dire? Io direi che prima di prendersela con gli ether di merda come dice lui, io me la prenderei un po' con mia moglie e le farei anche un discorsetto della serie non dire più in live, in video o in qualsiasi altro social delle cose che poi possono autorizzare altre persone a dire e a prendere per buono quello che tu hai detto e a continuare a propagarlo sui social. In questo caso il fatto che la madre abbia la demenza senile perché può essere che molte persone siano sentite autorizzate a pensare questo, cioè che Luciana abbia questo tipo di malattia proprio perché sua figlia lo ha detto. E parlare della volgarità insomma di Davide in questo caso cioè e sparare un po' sulla croce rossa quindi io direi proprio di non parlarne affatto a parte il gesto dell'ombrello, ha fatto anche il gesto del dito medio, tutte le parolacce dette, il fatto, le minacce della serie vado spacco le gambe, cioè se le poteva tranquillamente risparmiare. Io capisco la voglia di difendere la sua famiglia, di fare il gallo del pollaio come si suol dire, però ci sono modi e modi di dire alle persone le cose e si possono dire anche senza usare parolacce o minacce. Comunque questo era tutto per quanto riguarda questa live, come al solito se vi ho intrattenuto lasciatevi un like, se volete iscrivetevi al canale, se volete lasciatemi dei commenti. Ciao a tutti e buona giornata, un bacio.